Ciao a tutti, sono Marco Gezza, ambassador di Bim Santori per l'Italia. Oggi vedremo insieme la lunga storia delle distillerie Santori, storia che nasce nel 1899 quando Shinjiro Tori apre il suo primo store ad Osaka dove importava e vendeva vini fortificati, vini liquorosi europei. Infatti all'inizio del Novecento la cultura giapponese si apre verso la cultura occidentale e inizia ad apprezzarne i gusti e i sapori. Così nel 1907 Shinjiro Tori lancia il primo vino stile porto prodotto in Giappone. Il successo è talmente alto che nel 1919 nel cuore di Osaka apre il Santori Liquor Atelier, atelier che tutt'oggi è ancora in funzione ed è l'atelier dove produciamo i nostri blend e i nostri distillati quali Vodka Haku e Gin Roku. La storia però di Santori si articola nel 1923 quando per la prima volta in Giappone viene aperta la prima distilleria di Malto. Infatti Shinjiro Tori con questo grande desiderio di portare il whisky nei confini giapponesi conosce Shinjiro Tori che manderà in viaggio in Scozia. Shinjiro Tori lavorerà nelle distillerie scozzesi e per non farsi mancare nulla decide anche di sposare una donna scozzese. Così nel 1923 tornando appunto in Giappone insieme a Shinjiro Tori che è il fondatore viene aperta la prima distilleria di Malti di tutto il Giappone ovvero Yamazaki. Successivamente nel 1972 si apre la seconda distilleria di Casa Santori sulle colline della penisola di Cita quindi vicino al mare un po' come in Scozia e infine un anno dopo nel 1973 la terza e ultima distilleria di Casa Santori viene aperta Akshu. Akshu in mezzo alle montagne famosa per produrre whisky leggermente torbati.